ciao a tutti grandissimi sono sempre qua col mitico luca gioielleria ciacci di san marino allora allora adesso stiamo calmi è perché qua la roba è volente temperatura fuori alta slaccio un altro bottone meglio di noi meglio di noi abbiamo delle cose super da goyer avevate già visto il nuovo acqua racer anche in verde col bracciale così che com'è sto vedete qua bellissimo oris con dei verdi sono più carichi e quelli di oris questo qua questo come lo vedono al polso è adatto per correre la nebbia si lo notano subito più modestino questo qua chiudiamo con un orologio che una ciliegina un pasticcino sempre estivo sempre stivo skipper sfatiamo il mito che non serve avere la barca vela per comprarlo quindi si può anche senza bellissimo carriera noi siamo sempre stati abituati a vederlo le corse le auto le tute ignifughe il sottocasco comunque il motore questa è una versione dedicato ovviamente alla barca vela al mondo della nautica bella elegante bella cromia colori i tenni pastello sta via sempre il glass box la cia tutta la magia molto molto bello orologio anche raro da da vedere da trovare perché non è che capita così spesso e ci sta dopo ovviamente luca io ti chiederò qual è il tuo preferito credo che sarà questo oris quasi perché vedo che lo stai fissando molto non so se sei tu che fissi lui o se lui che fissa te no no guardo la guardia io ragazzi vi darò una risposta che vi lascerà di stucco quindi ci vediamo dopo adesso vi facciamo vedere queste bellezze e vai che si vuole ed eccoci qua grandissimi partiamo con questo tag oia acqua resa colorazione blu mi piace sempre di più un orologio che vi avevo già fatto vedere ve lo faccio vedere di nuovo perché ne sto seriamente valutando l'acquisto con la gomma molto comodo molto performante al polso un modello che è già un instant classic un orologio che nel mondo della subacqua è diventato un best seller in questa versione ulteriormente migliorata e performante raggiunge secondo me lo stato dell'arte abbiamo un diver completo con movimento di manifattura ottima realizzazione un quadrante ad ondine notevolissimo sfera arancione da quel tocco di sbarazzino che mi piace davvero tantissimo ma oggi sono qui non per farvi vedere questo blu che avevate già visto ma perché volevo vedere personalmente la versione verde abbiamo lo stesso orologio 3.750 euro il listino della versione braccialata contro i 3.550 di quello in gomma cassa da 42 per 12 mm di spessore 300 metri di impermeabilità fantastica runetta ceramica il movimento il th 3100 certificato cost 80 ore di riserva di carica qua come vedete abbiamo bracciale bracciale che vale assolutamente quei 200 euro in più perché si tratta di un prodotto ottimamente realizzato clasp molto performante e tecnologica un orologio finalmente completo finalmente maturo non che gli altri non lo fossero ma qui veramente abbiamo secondo me un prodotto definitivo lente magnificatrice per mostrare la data d'ore 6 quadrante ad ondine molto bello due verdi differenti che mi sono molto graditi tocco sbarazzino per la sfera dei secondi continui di questo color lime questo verdino un po più acceso un po acido ora ve lo faccio vedere a confronto con il blu sono due colorazioni stupende c'è davvero l'imbarazzo della scelta ottimi ottimi prodotti davvero il blu è abbastanza cangiante abbastanza brillante adesso vi faccio vedere il verde un po nel dettaglio perché questo colore mi ha stupito non poco davvero vi spiego subito perché guardate come reagisce alla luce abbiamo la lunetta in ceramica la ghiera girevole in ceramica che ha una colorazione sua mentre il quadrante ha questo verde che è un verde olivo un verde che guardate se cosa dell'angolazione cambia davvero tanto tende a diventare scuro in certi momenti a ricordare anche un grigio antracite quindi insomma un orologio che cambia davvero tanto ma adesso vi faccio vedere un altro siluro in colorazione blu qua c'ho lasciato una fetta di cuore sto seriamente pensando e valutando l'acquisto di questo fantastico carrera skipper carrera voluto da jack hoyer per l'americans cup degli anni 60 ovviamente utilizzato a bordo dell'intrepid quindi insomma abbiamo una lunga storia un orologio bellissimo un carrera con vetro glass box diametro 39 per 13.9 di spessore qua il movimento che vedete il th 20 06 con 80 ore di riserva di carico ovviamente di manifattura tag oire il loro nuovo calibro abbiamo un orologio secondo me della cromia bellissima con quel tocco di arancione soprattutto nella sfera dei secondi cronografici che fa davvero tantissima magia presenza della data ad ore 6 con la sua finestrella la scritta skipper nel contatore ad ore 9 il contatore ad ore 3 presenta il countdown i tasti sono a pompa la corona a pressione ma è garantita comunque un'impermeabilità di 100 metri movimento come potete vedere attraverso il vetro zaffero posteriore molto rifinito per quello che è un orologio industriale come questo cinturino in pelle e tessuto estremamente tecnico con una bella chiusura deploy alla cassa presenta una lavorazione totalmente lucida nella parte superiore e satinata per quello che sono i fianchi la vera magia però di questo orologio è sicuramente il quadrante così colorato così acceso e così particolare con appunto il contatore come vi dicevo ad ore 3 che presenta il countdown che ovviamente è molto utile quando si è in regata questo un orologio che nasce con quello scopo adatta un grande modello ispirato ovviamente alle corse automobilistiche anche al mondo della vela ve lo faccio vedere più da vicino nel dettaglio guardate tutta la magia del glass box questo vetro che si va a infilare all'interno della cassa che crea questa questo enorme raggio quindi da questo effetto di distorsione molto tridimensionale tridimensionale molto glossy no come si dice sentite che termini lo zio che vi tira fuori per questo prodotto che mi sta piacendo tantissimo una chicca un carrera diverso da tutti gli altri sfizioso molto estivo ovviamente anche qui si può installare volendo il bracciale o si cinturino vogliate perché il passo è da 20 guardate qui il vetro guardate che distorsione veramente fantastico promosso pienissimi voti continuiamo con questa sfiziosità questo è sono un po come i salatini quando siete in aperitivo che dite no non ne prendo neanche uno e poi mangiate tutta la ciotola qua abbiamo un fantastico oris watermelon un orologio molto fresco molto estivo carichissimo qua intanto vediamo dietro che la versione con movimento di fornitura che il 733 si tratta poi di un sellita colorazione shocking 2400 euro di destino diametro 41.5 300 metri di impermeabilità una bella finestra data d'ore 6 gli era girevole in ceramica bianca che spara 100.000 quadrante ipnotico di questo super verde acido una cosa molto molto parescente ed estremamente estiva questa variante secondo me è veramente una delizia per chi comunque vuole un po giocare con la stagione estiva molto molto bello continuiamo sempre con il verde con un altro orologio che secondo me vale la pena che sto guardando da un po ve l'ho già fatto vedere ma questo mi piace tantissimo perché abbiamo un 65 2490 euro di destino diametro 40 10 bar stesso movimento dell'oris di prima quindi abbiamo il sellitone calibro 733 questo bracciale che uno spettacolo perché rastrema tantissimo fascino vintage da vendere a vagonate questo quadrante verde che a me piace molto un po meno acceso più sobrio grande bombatura del vetro insomma un orologio che si fa apprezzare davvero tantissimo più elegante della versione precedente che è decisamente shocking quindi abbiamo il il watermelon che si vede anche dalla luna questo qui più sobrio più modesto secondo me un'ottima scelta per chi vuole un bel diverino ora ve li faccio vedere indossati al mio polso partiamo logicamente dallo skip perché mi sta trasmettendo forti emozioni un orologio che mi sta chiamando a gran voce ottima portabilità una cassa molto compatto l'aculaga altrettanto sia il sapore vintage degli oyer degli anni 60 70 nonostante ovviamente questo sia moderno continuiamo con il l'acqua racer verde orologio che guardate anche qui come vi dicevo prima come cambia la colorazione come il verde tende a trasformarsi a seconda della luce questo a me piace tantissimo perché si ha l'idea di avere 18 orologi in uno vestibilità al top col bracciale secondo me trova la sua dimensione definitiva versione blu con i gomma l'avevate già visto anche questo molto bello qua un blu più carico una colorazione più permettetemi tenere invasiva ma per gli amanti del blu questo è un gran bel blu ci potete scommettere loris questo bel verdino tranquillo modesto ottimo skin diver fascino anni 60 profusione un orologio veramente equilibrato dalla colorazione giustissima sia per l'estate che per l'inverno qua invece non possiamo dire lo stesso questa estate pura questo shock puro al pulso al suo bel perché per chi vuole divertirsi per chi ama giocare con i colori vuole un oggetto appariscente questa è la scelta giusta ma adesso grandissimi direi di tornare dal mitico luca per quale che sono le conclusioni eccoci tornati grandissimi orologi che si fanno notare questo dobbiamo dirlo tanto sto spargendo un po di influssi tuo preferito luca combattuto però forse la qui si cade in piedi e qua si cade in piedi bello se no l'acquare il server si anche perché questo è il mio di preferito non potevamo avere tutti due prima lo stavo guardando però ma qua è stato così perché tu dunque lo guardavi basti invece io lo guardavo lui mi guardava mi guardavo lui mi guardava e sinceramente è un orologio spinto però ragazzi siamo in estate bianco questo verde poi come sapete io anche il kermit questi verdi un po carichi mi piacciono un bel po orologio prettamente stimo questo va detto secondo me anche da tutti i giorni questo è anche però chiaramente ogni impronta sia sportiva che è un colore abatto effettivamente alla stagione che quando ho fatto un verde equilibratissimo è perché non è troppo né troppo poco ma hanno dato quel tocco giusto di giocosità in più con la sfera dei secondi se l'hanno fatta quando quando ho fatto tutto il resto tranne la sfera dei secondi carico quindi hanno fatto il contratto ma sono due orologi molto belle stili questo ci fai mi dicevi te tutto l'anno ci fai veramente tutto questo ci fai l'estate in spiaggia e fa il suo alla grande colore del moito proprio e non ti sbagli però poi magari in autunno inverno diciamo che per il cenone ma forse per l'ultimo dell'anno potrebbe anche starci per natale un po meno quello rosso e vedi che vede qua che ti volevo perché c'è sia verde che rosso che li faremo puoi vedere perché due in un colpo era troppo troppo benissimo ragazzi io vi ringrazio luca lo trovate sempre qui giovederia ciace san marino se volete venire a vedere queste altre preribatezze soprattutto questo skipper come ed è questo qua suona e questo qua suona e canta bellissimissimissimo io vi ringrazio chiederò a pedro il suo preferito qua effettivamente non c'è niente di nero chissà cosa mi dice forse che preferisca il microfono che nero perché non lo so a questo punto qua io cari amici vi ringrazio lo trovate nel gruppo mi raccomando iscrivetevi sia il gruppo che il canale come sempre è stato un piacere venite a san marino a vedere questi orologi qua che sono fantastici soprattutto i nuovi aquarei se siamo in estate perfetto proprio la morte sua cos'altro dire ciao grandissimi ragazzi ma ma qua c'è una vera lontra di mare un moschettiero si mette subito a quattro di bastoni ma ma pedro sei veramente sfacciato è anche con i ragazzi che ti guardano a casa c'è ancora il muso sporco di sabbia allora cosa dici visto che siamo anche al mare potrebbe essere lo skipper il tuo preferito intanto beccatevi la ciabatta potrebbe essere lo skipper vediamo la cosa sì 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 carissimi da me da questa bella lontra di mare tutto noi ci vediamo martedì non mancate faccio un video super ciao da me da pedrone brr Grazie a tutti.